Ciao, ci prepariamo a vivere l'impegno di vita del mese di agosto, Gesù è la verità. Vi do un paio di indicazioni a partire dalla parola di Dio per approfondire i testi di riferimento. In realtà l'espressione rientra nella affermazione che Gesù stesso fa di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. Ma il brano di riferimento per cogliere il senso profondo del dibattito che Gesù pone con i Giudei è quello del capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 59. Vi invito a leggerlo, a leggerlo con calma. Non è un testo semplice, ma fa bene nutrirci della parola nell'ascolto anche di ciò che un po' ci sfugge. È in questo testo che Gesù afferma ai Giudei che chi conosce la verità sarà libero. Anzi, se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Teniamo come sfondo questa affermazione il dibattito che segue e che vi ripeto vi invito a leggere prima di entrare in quello che invece è il testo che vi suggerisco come testo di meditazione, il processo di Gesù davanti a Pilato secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 18, dal versetto 28 al versetto 40. Vi propongo questo testo perché ci aiuta a immaginare la scena, ad entrare quindi come ci stiamo abituando a fare dentro la situazione, dentro quello che stanno vivendo i personaggi coinvolti. Mentre al capitolo 8 c'è un discorso di Gesù c'è anche un dibattito, qui è però più semplice raffigurarci la scena di Gesù che appunto sta davanti a Pilato, incatenato, catturato, preso e mandato lì da Caifa, già colpito più volte, già sofferente, anche fisicamente ferito, di fronte al governatore romano il quale arriverà come sappiamo alla determinazione di crocifiggere Gesù. Quello che ci interessa è stare dentro questa scena di quest'uomo Gesù appunto che viene trattato come un malfattore proprio dai giudei, in particolare dai capi dei giudei, coloro con i quali Gesù ha discusso e ribattuto, e che alla fine mettono in pratica la determinazione espressa al termine del capitolo 8. Raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Già lì volevano ucciderlo, ora lo fanno attraverso i mezzi, diciamola così, permessi dalla legge romana che si impone su quella giudaica per quanto riguarda la possibilità di mettere a morte una persona. Gesù dunque in queste condizioni, umiliato profondamente e quindi alla luce di uno sguardo umano nella situazione non solo più drammatica ma anche più svalutante possibile, insomma una persona di cui potremmo dire non possiamo dare tanta credibilità dalla quale certamente non potremmo aspettarci di fondare una verità, è invece proprio lì che andiamo a incontrarci con l'esperienza autentica della verità. Gesù è la verità e lo è anche in questo momento, lo è anche davanti a Pilato, il quale lo interroga e gli chiede sostanzialmente chi sei, glielo chiede in maniera diretta, sei tu il re dei giudei? Perché a Pilato interessano le questioni politiche, ha paura che ci sia qualche sobillazione, qualche movimento rivoluzionario, se Gesù è il re dei giudei potrebbe muoversi contro i romani e portare a una insurrezione. Pilato dunque non è un uomo della religione e questo paradossalmente rende il suo dialogo con Gesù in qualche maniera più disponibile, più aperto ad ascoltare, perché il grande problema dei giudei è che essi sono chiusi nella loro convinzione di possedere già quella verità che viene da Dio, addirittura che è Dio stesso, la verità espressa nella Sacra Scrittura, la legge, si considerano i possessori della verità e dunque il loro dialogo con Gesù è su due binari completamente paralleli, incapaci di disporsi a raccogliere la novità travolgente che porta la persona di Gesù. Pilato all'inizio sembra essere addirittura più propenso a questo e quando Gesù si esprime come re riconoscendosi tale, cosa per esempio che non fa davanti a Erode che è un giudeo ma molto meschino e che Gesù coglie non capace di un dialogo in alcuna maniera, non dirà nulla davanti a Erode Gesù, qui con Pilato invece Gesù si esprime e dice che è re di un regno che non è di questo mondo, rimanda a una realtà ulteriore, cioè che sta oltre e questo turba Pilato che è un uomo comunque pauroso, sostanzialmente codardo. È lì che Gesù si esprime e si definisce come colui che è venuto per dare testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ecco che Pilato pone qui la domanda che a noi interessa di più, ma che cos'è la verità? Lo fa proprio nel momento in cui decide di scappare. La verità è qualcosa che interpella, Gesù ha detto che rende liberi, potremmo dire che è la libertà ciò che ci interpella. La libertà la desideriamo, la vogliamo tutti, ma in fondo è anche qualcosa che ci spaventa, perché libertà significa responsabilità, significa farsi carico della vita, delle cose. La verità e la libertà allora sono strettamente vicine e questo indica che la questione della verità non è tanto un discorso di concetti. Potremmo anche dire che Pilato non ha problemi a riconoscere che Gesù sia un re di un qualche mondo ultraterreno, basta che non gli dia fastidio. La questione della verità è una questione di relazione. Per entrare nella verità si tratta di diventare discepoli di Gesù, di ascoltare la sua voce, la sua parola, cioè di instaurare un rapporto. Ecco, la verità quindi è una persona, è una relazione. Questo vale anche oggi, vale sempre. La verità ha un aspetto intellettuale, certamente una conformità delle cose, una descrizione, ha un qualcosa che diciamo che è corrispondente all'oggetto concreto di cui stiamo parlando. Ma non è soltanto questo la verità. La verità è soprattutto l'adesione a una realtà che è sempre intellettuale, affettiva e anche di volontà, di scelte. Dunque in questo scopriamo che si tratta di interrogarsi di fronte non solo a ciò che è Gesù e ciò che Gesù dice, ma anche ciò che siamo noi. I giudei e Pilato si sentono interpellati in prima persona ed è questo che li spaventa. Pilato fugge, l'abbiamo detto. I giudei invece si rigidiscono e aggrediscono, accusano Gesù. E notiamo qual è il contenuto in fondo di questo, di questa accusa, di questo dibattito. I giudei nel capitolo 8 interagiscono con Gesù sul tema centrale del padre. Gesù dice di se stesso di essere il figlio del padre, il padre che è Dio. I giudei dicono di se stessi di essere i figli di Abramo e quindi gli appartenenti al popolo di Dio che ha scelto Abramo come patriarca, iniziatore di un'alleanza, di una familiarità appunto con il popolo e dunque di essere fedeli a questo Dio. Gesù risponde di contrappeso che se fosse davvero così essi ascolterebbero la sua voce perché egli appunto viene da Dio, il padre che lo ama e che da lui è amato. Ed anzi rimanda l'accusa a loro dicendo che essi non sono figli di Dio ma figli del diavolo che è omicida e menzoniero. Così si esprime Gesù, così riporterà Giovanni anche nelle sue lettere nei testi scritti dall'Evangelista. In questo modo noi abbiamo un conflitto fondamentale, un conflitto di paternità e quindi di figliolanza. La verità è propria di coloro che con Gesù, anzi in Gesù e attraverso Gesù si riconoscono figli del padre, del Dio autentico, del Dio vero, e non figli del demonio. I figli del demonio sono coloro che si conquistano o presumono di conquistare il diritto di determinare l'identità di Dio, il suo modo di agire, il suo modo di pensare. Sono coloro che egocentricamente o meglio con superbia definiscono se stessi come se fossero onnipotenti al posto di Dio, escludendo coloro che non la pensano come loro, ritenendosi con il diritto di puntare il dito, addirittura di dare la morte a quanti non sono del loro stesso parere. Capita a Gesù di pagare di persona questo conflitto, ma pensiamo anche a noi, a tutte le volte in cui diamo la morte agli altri con con le parole, con la presunzione di avere ragione, con il giudizio e anche in maniere purtroppo peggiori. Ogni qualvolta riteniamo di essere noi al centro del mondo, padri in fondo di quello che pensiamo, che vediamo e quindi anche della realtà che ci troviamo davanti, giungendo perfino a deformarla, ecco la menzogna, a trasformare in bugia quelle che sono soprattutto le nostre relazioni, facendo finta di non vedere aspetti spesso anche interiori, affettivi, che ci potrebbero portare a un coinvolgimento impegnativo con l'altro e che preferiamo invece escludere e trascurare. Ecco allora che la questione della verità ritorna fortemente con una domanda radicale. Chi è mio padre? Di chi sono figlio? Questa domanda è così importante che nel processo di Pilato ritorna simbolicamente e drammaticamente, perché quando Pilato tenta di mettere in libertà, di rilasciare Gesù, il popolo richiede la liberazione di Barabba. Barabba è un brigante, un omicida quindi, ma Barabba significa in ebraico figlio del padre, egli è figlio di un padre che è omicida e menzognero. Dunque si compie quello che i giudei avevano negato che potesse essere di loro, una figliolanza omicida e menzognera che porta alla morte del figlio del padre che invece è Gesù, del padre con la P maiuscola, una morte che uccide la vita. Sappiamo che questa non è l'ultima parola, perché dove arriva la verità comunque porta libertà e vita e sarà dunque la risurrezione di Gesù proprio per opera del padre ciò che conferma che egli è la verità. La verità che scende nelle profondità delle viscere della terra ma anche della morte per vincere in maniera definitiva. Dunque dire che Gesù è la verità, significa dire che Gesù è il figlio del padre, partecipare della verità significa conoscere Gesù, cioè entrare in una relazione intima con lui e attraverso questa relazione conoscere il padre e vivere nella verità significa scoprire che anche noi siamo figli dello stesso padre, figli amati, figli fatti per la vita, figli fatti per la libertà che significa responsabilità verso gli altri, verso i fratelli, verso gli figli del padre, soprattutto i più emarginati e trascurati, i poveri, gli ultimi, gli umili, i prediretti da Dio. Con questo Vangelo dunque, con questa esperienza di meditazione e di contemplazione, con l'impegno di vita del prossimo mese vogliamo riconoscerci figli del padre, ma vivere concretamente questa relazione attraverso una conoscenza più approfondita di Gesù, che è il fratello maggiore e che si fa presente nei fratelli che sulla nostra via vengono a incontrarci attraverso le loro fragilità, le loro debolezze e in particolare i più poveri e gli emarginati. Buona preghiera, buona meditazione, ma soprattutto buon impegno di vita a tutti.